Il Presidente della Repubblica, coadiuvato dal Ministro della Difesa, procede alla consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia, conferite nell'anno 2016. Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, Generale di Divisione, Francesco Paolo Figliuolo. Comandante della Kosovo Force, svolgeva il delicatissimo incarico con lodevole intraprendenza, straordinaria autorevolezza ed altissimo senso del dovere, e poneva in essere una brillante e incisiva azione di comando, esaltando il ruolo di Kifor come fattore di stabilità nell'area balcanica. Dotato di apprezzate capacità diplomatiche, tese al dialogo e alla cooperazione, guidava con valore, abnegazione, perizia ed indiscusse capacità le componenti operative e organizzative alle proprie dipendenze. Esemplare figura di comandante, contribuiva a elevare il prestigio dell'esercito e dell'Italia in ambito multinazionale. Pristina, Kosovo, settembre 2014-agosto 2015. Grazie. Grazie.